Nel quarto anniversario dell'istituzione dell'ufficio della pace e del dialogo del decimo municipio, l'associazione La Ciurma ha organizzato la ormai tradizionale cena del raduno. La serata è stata l'occasione per ritornare sull'ufficio che in effetti non è stato mai attivato. Una recente commissione ha individuato tre possibili soluzioni. L'inserimento all'interno di una consulta, la collocazione in seno ad un ufficio tecnico o la possibilità di creare un organismo tecnico nel quale però abbiano ruolo rilevante i rappresentanti di parrocchie, sinagoge e moschee. Proprio quest'ultima ipotesi ha ricevuto i maggiori favori dal promotore Stefano Di Tomassi in quanto ritenuta in grado attraverso l'organizzazione di attività artistiche, sportive e di comunità di promuovere il dialogo tra tutti i giovani, anche coloro che non necessariamente sono animati dalla fede. A questo proposito, nel corso della serata è stata firmata una petizione indirizzata alla presidente del decimo municipio Giuliana Di Pillo e per conoscenza alla commissione pari opportunità e a quella per l'inclusione sociale. Il documento interconfessionale, sottoscritto da religiosi ma anche da semplici cittadini, sarà un ulteriore passo per far sì che l'ufficio della pace e del dialogo diventi finalmente operativo.